Ciao a tutti, la fine di una relazione è causata dalla distanza emotiva, non dai conflitti. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, perché finisce una relazione? Raramente per i conflitti. I conflitti, se vengono gestiti, possono anche servire a dare stimolo alla relazione. Quando il conflitto però diventa poi rabbia, la rabbia è un veleno che va a corrodere il pathos, a corrodere l'emotività. Il conflitto di per sé è anche positivo perché permette di fare nuove esperienze, permette di vedere il mondo in un altro modo. Se noi avessimo la capacità, la forza, l'umiltà e la pazienza di, anziché provare rabbia quando siamo in disaccordo con una persona, di cercare di capire il punto di vista della persona e magari di imparare qualcosa, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Il che non vuol dire accettare quello che l'altro dice, ma vuol dire portare avanti una discussione. Questo non fa, questo non distrugge una relazione, anzi la fa crescere, la fortifica, la solidifica. Quando invece si genera rabbia, quindi non c'è più conflitto su un oggetto del contendere, diciamo così, o su un tema, o su una discussione, ma diventa rabbia verso quella persona, allora la relazione è destinata a finire, perché la rabbia uccide l'amore, corrode l'amore, lo distrugge e la distruzione dell'amore porta inevitabilmente, inesorabilmente alla fine della relazione. Non c'è possibilità di mantenere una relazione senza amore e quindi il peggior, diciamo, veleno che uccide l'amore è proprio quello della rabbia. Quindi ogni volta che c'è un conflitto bisogna cercare di risolverlo. Una possibilità è quella di mantenere un'emozione positiva nei confronti di quella persona e utilizzare, diciamo così, la dialettica, utilizzare il ragionamento per risolvere il conflitto. dare sempre però un'offerta emotiva di affetto all'altra persona, un segno di affetto, un segno di attenzione o qualunque modo, qualunque espressione di connessione positiva che viene offerta all'altra persona, può essere un semplice abbraccio, una carezza, un bacio, una parola affettuosa ci permette di risolvere molto meglio i conflitti e di generare una solidità nella relazione e una complicità. La complicità è veramente la cosa più importante che mantiene le relazioni nel tempo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, è Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!